12 anni di attesa e costi lievitati è stata un'odissea la realizzazione di medicina nucleare in radioterapia oggi l'inaugurazione è la posa della prima pietra di Asclepios 3 prostituzione giro di vite ad agosto blizza nei quartieri in cui il fenomeno è più presente con forza dell'ordine associazioni antitratta l'annuncio del sindaco durante la nostra diretta chiama De Caro Forza Italia accoglie il figlio il prodigo Massimo Cassano lascia alternativa popolare torna da Berlusconi a seguirlo un consigliere regionale e due comunali stadio il giallo sulla manutenzione ma anche il verbale di consegna che attesta le condizioni dell'impianto al momento della concessione la società il comune farebbe fatica a verificare che tipo di manutenzione abbia fatto la FC Bari Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari benvenuti al consueto appuntamento con il nostro Tg Sera la sanità in primo piano dopo 12 anni di attesa al Policlinico di Bari viene inaugurata la medicina nucleare e la radioterapia al taglio del naso presente anche il governatore della Puglia Michele Emiliano allora guardiamo com'è andata questa mattina Quasi 12 anni dall'approvazione del progetto definitivo un quadro economico lievitato col passare del tempo mentre nel frattempo i pazienti continuavano ad entrare in un tir per essere sottoposti a una PET il Policlinico di Bari inaugura la nuova medicina nucleare e radioterapia una delle sezioni più importanti del nuovo complesso chirurgico dell'emergenza meglio noto come Asclepius 2 probabilmente tra i centri più grandi d'Europa in questa disciplina la cui realizzazione però è stata una vera e propria odissea dal dicembre 2005 data di approvazione del progetto da oltre 16 milioni già nel 2009 fu necessaria una rideterminazione del quadro economico per la sostituzione del ciclotrone con un altro acceleratore l'effettivo inizio dei lavori però avveniva il 28 gennaio del 2008 nel 2013 veniva approvato un progetto per opere complementari da 4 milioni e 600 mila euro con una perizia di variante da oltre 700 mila euro nel febbraio 2005 vengono ultimati finalmente i lavori cui segue un aggiornamento delle attrezzature indispensabile che assieme al data center aggiunge oltre 2 milioni all'importo complessivo altri contrattempi portano ad oggi data di inaugurazione di Asclepius 2 e posa della prima pietra di Asclepius 3 nuovo complesso che si aggiungerà a quello già presente sperando che questa volta si rispettino i tre anni previsti per i lavori per sette anni i lavori sono stati fermi dal 2006 sono ripresi si è previsto di raddoppiare le attrezzature e poi i tempi sono diventati coerretti dopo la prima fase di blocco ho sempre ritenuto pur non essendo uno specialista della sanità di mantenere la delega della sanità per consentire ai direttori generali di lavorare in piena libertà senza rotture di scatole non avere rotture di scatole spesso accelera anche i lavori pubblici e allora adesso vi mostriamo le immagini di un incendio divampato questa mattina in Sadella San Pasquale nella parallela di via Alberotanza a prendere fuoco sarebbero state delle sterpaglie il ruolo ha creato una densa nube di fumo che ha invaso buona parte dei quartieri San Pasquale e Mungivacca sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco Giro di vite sulla prostituzione ad agosto operazione mirata delle forze dell'ordine l'ha lanciato il sindaco Antonio De Caro durante la nostra diretta pomeridiana Chiama De Caro, guardate Quelle sono persone che non lo fanno nemmeno lo scelgono di farlo vengono costrette a farlo vengono attratte con l'idea di venire qui a fare un lavoro e poi in realtà le mettono su strada non vi nascondo che tra quei 639 migranti che sono arrivati l'altro giorno c'erano delle donne nigeriane bellissime che dopo l'identificazione sono anche sparite non sappiamo dove sono andate a finire immagino che saranno collocate in un centro di accoglienza e di lì c'è già una rete nazionale purtroppo che parte dai paesi da cui partono che nel nostro paese o in altri paesi europei cercheranno di sfruttare la bellezza di queste donne ad agosto c'è l'impegno da parte della Questura in collaborazione con la Polizia Municipale di fare degli interventi accompagnati dalle associazioni antitratta per convincere una parte di queste donne a lasciare la strada e creargli una sorta di protezione per evitare che possano passare i guai e subire ritorsioni da parte dei gruppi criminali che le gestiscono è bene anche dire che se ci sono tutte quelle donne per strada ci sono tanti italiani che si fermano ci sono tanti baresi che con la macchina si fermano e utilizzano il corpo di queste donne che non è una bella cosa approfittano del fatto che queste donne sono costrette a vendere il proprio corpo Siamo alla pagina politica il senatore Massimo Cassano annuncia le proprie dimissioni dal governo e torna alle origini domani mattina l'annuncio del suo oriento nel partito di Silvio Berlusconi intanto a Palazzo di Città e caccia al terzo consigliere per riportare Forza Italia in Aula Dalfino sentiamo Il senatore Massimo Cassano annuncia le proprie dimissioni a far data da oggi dall'incarico di sottosegretario al lavoro del governo la notte è diffusa alle testate giornalistiche nel primo pomeriggio in contemporanea da Forza Italia la convocazione di una conferenza stampa prevista per domani mattina all'Hotel Palace in cui si annunciano importanti ingressi nel partito che saranno presentati dal coordinatore regionale Luigi Vitali Il collegamento agevole dalle fila del partito del CAV già confermano Massimo Cassano torna alle origini Unica incognita al momento l'ingresso direttamente nel partito o il transito in Italia Civica la nuova formazione di centrodestra alleata di Forza Italia La notizia del cambio di casacca di cui si vocifera già da mesi ma puntualmente smentita almeno fino ad oggi non coglie però impreparato il presidente di Alternativa Popolare Angelino Alfano che nomina il consigliere regionale Gian Nicola De Leonardis coordinatore di AP Puglia Ma la nota del partito di Silvio Berlusconi parla al plurale importanti ingressi Dal coordinamento regionale sfuggono i nomi dei consiglieri regionali Gianni Stea e Luigi Morgante ma per quest'ultimo il dubbio è lecito la smentita arriva infatti direttamente nella nota di Alternativa Popolare Cambiamenti in vista anche in consiglio comunale automatico il passaggio dei consiglieri legati al senatore Cassano Michele Piccaro e Romeo Ranieri nella lista dei papabili poi Giuseppe Carrieri attualmente impegno civile e Fabio Romito gruppo misto ma entrambi smentiscono e dichiarano domattina non saremo presenti alla conferenza stampa ma la caccia al terzo nome aperta con il passaggio infatti di un terzo consigliere Forza Italia tornerebbe ad occupare i banchi dell'Aula Dalfino e siamo allo stadio San Nicola il mistero si infittisce il caso di dire l'appello mancherebbe il verbale di consegna dell'impianto sportivo essenziale per verificare i lavori di manutenzione dichiarati dalla FC Bari 1908 intanto è stata fissata questa mattina la monotematica sul futuro dell'astonave di Renzo Piano se ne parlerà in Aula Dalfino il prossimo 2 agosto sentiamo non esiste un verbale di consegna tra il Comune di Bari e l'Associazione Sportiva Bari sia sotto la gestione di Paparezza che sotto la gestione di Giancaspro quindi non essendoci questo atto che avviene diciamo anche nei contratti di locazione semplici non si sa come è stato consegnato il bene immobile è tutto da verificare e questo è solo il primo dei tanti punti discussi in Commissione Trasparenza in cui sono stati convocati l'assessore di competenza Pietro Petruzzelli e la dirigente della ripartizione Cultura e Sport che si sbilancia quando si inizia a parlare di contenzioso ovvero dei famosi 2 milioni di euro che il presidente della FC Bari 1908 Cosmo Giancaspro avrebbe richiesto al Comune come rimborso per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati in questi anni ecco la dirigente in Commissione Trasparenza ha riportato ha detto che al momento sono state millantate queste richieste sulla stampa e tra l'immillantare e le dichiarazioni ufficiali c'è di mezzo il mare non esiste un contenzioso Pietro Petruzzelli smorza i toni tanto da paragonare il rapporto tra comune e società a una lunga storia d'amore quei lavori dichiarati vanno congruiti prima di poter come dire affermare con esattezza qual è l'amore dei lavori realizzati ma è tutt'altro rispetto a un contenzioso non è una cosa diciamo che ad oggi c'è verranno fatte delle verifiche in questo senso per quanto riguarda i lavori che la società dice di aver fatto ma questa è una cosa su cui l'IVOP la ripartizione dove vi sono le competenze tecniche naturalmente effettuerà una valutazione sulla congruità dei lavori ma il rapporto con la società è un rapporto diciamo armonioso poi avete in passato a volte si litiga come due fidanzati prima che scoppi l'amore ma questo ci sta 200 milioni di euro in mutui per costruire ristrutturare e potenziare le strutture sportive comunali presentato ai sindaci pugliesi il protocollo d'intesa nazionale sport missione comune è stipulato fra ANCI e istituto per il credito sportivo con il coinvolgimento del CONI i finanziamenti possono essere destinati anche a impianti sportivi scolastici o all'acquisto di attrezzature sportive nonché alla realizzazione di punti sport e piste ciclabili sarà possibile presentare domanda dal 6 al 28 settembre per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web creditosportivo.it la raccolta porta a porta si allarga da venerdì prossimo 28 luglio partirà il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati a palesa nel territorio compreso tra via Capitaneo e Lama Valicia e tra i binari e il mare da oggi le squadre del Lamio hanno cominciato ad applicare sui cassonetti stradali presenti degli adesivi che ricordano la loro imminente rimozione prevista nella notte di giovedì 27 luglio si invitano le utenze domestiche non che non siano ancora in possesso dei kit dei contenitori per il porta a porta di rivolgersi presso il punto di distribuzione di Amio Puglia in via Fiume 8 a Santo Spirito per il ritiro di tutto il materiale nella giornata di venerdì saranno raccolti rifiuti indifferenziati e carta e cartone ha commentato l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli per questo chiediamo ai cittadini di esporre dalla sera del giovedì le due pattumelle dedicate nelle prime tre settimane di raccolta porta a porta a Santo Spirito è stato superato il 75% e sono convinto che con la collaborazione dei residenti di Palese a concluso Petruzzelli riusciremo a raggiungere gli stessi straordinari risultati i cittadini di Carbonara protestano in via di sonso per l'installazione di una nuova antenna chiedono chiarezza all'amministrazione comunale sentiamo una struttura bianca simile a un comignolo uno striscione appeso a un balcone l'avidità avvelena i vostri figli i cittadini di Carbonara alzano la voce e vogliono verità sull'inalzamento sullo stabile di un privato di una nuova antenna nascosta da una copertura in metallo e inalzata nel giro di poche ore lo scorso luglio più di 100 persone si sono radunate per raccogliere le voci del quartiere e rivolgere i propri dubbi all'amministrazione comunale che segue l'iter autorizzativo per l'installazione di questi impianti e se alcuni hanno scelto la satira web per commentare la nuova installazione c'è chi preoccupato ha già scelto di abbandonare il proprio appartamento io diciamo mi sono vista costretta ad allontanare mia figlia in premessa ci siamo allarmati perché prima di tutto è un'antenna camuffata che è stata costruita alle prime ore dell'alba di martedì 4 luglio e non abbiamo ricevuto nessun tipo di spiegazione né dagli operai che hanno montato hanno eretto quest'antenna né tantomeno dalle persone che hanno voluto costruirle ovviamente scuole asili io personalmente che abito qua che mi sono sposata penso domani di allargare la famiglia ma è proprio diventata un'incombenza dal comune di Bari fanno sapere che sono in corso delle verifiche per capire se ciò che è stato realizzato sia conforme a quanto dichiarato in attesa che si faccia chiarezza sulla distribuzione sul territorio di questi impianti sequestrate nel porto di Bari oltre 14.000 paia di scarpe riportanti noti marchi contraffatti destinati al mercato nazionale la merce era trasportata su due diversi camion provenienti dalla Grecia imbarcati a distanza di un giorno uno dall'altro ma destinati almeno formalmente allo stesso soggetto economico una ditta cinese con sede nella provincia di Macerata la merce è stata sottoposta a sequestro dopo i controlli di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane in due distinte operazioni un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di occupazione e la proposta di legge nata su iniziativa popolare è promossa a livello nazionale da associazioni laiche e religiose sentiamo un corridoio umanitario basato su legalità e lavoro l'hanno divinita così le sigle laiche e religiose che hanno aderito alla campagna Ero straniero una raccolta firme per promuovere la proposta di legge sul tema immigrazione interviene lì dove ci sono i principali problemi di illegalità e irregolarità interviene ad esempio sul traffico di esseri umani consentendo a migranti che hanno le condizioni irregolari per venire a vivere in un altro paese appunto di venire in Europa o dove vogliono il lavoro come arma migliore per combattere l'osco universo dell'illegalità oggi in cui la storia ci insegna che siamo tutti migranti e i numeri lo confermano gli italiani all'estero sono tanti quanto gli stranieri in Italia ovvero 5 milioni siamo tutti migranti anche quelli come me che sono nati cresciuti e vissuti sempre in questa città ma siamo tutti alla ricerca di una patria e questo dovremmo ricordarcelo tutti siamo in cammino il prossimo 15 settembre il governo nazionale e poste italiane presenteranno il nuovo francobollo dedicato a San Nicola ad annunciarlo il deputato barese Alberto Losacco lo abbiamo intervistato il prossimo 15 settembre verrà presentato il nuovo francobollo a Bari dedicato al nostro santo San Nicola in collaborazione fra il governo e poste italiane come è nata questa idea? perché in questa fase sentiamo l'esigenza di sottolineare il rapporto di San Nicola della base di San Nicola con la nostra città e non solo con la nostra città nelle ultime settimane abbiamo visto quello che è successo in Russia per l'arrivo delle reliquie di San Nicola ci sono state code chilometriche che hanno accolto il nostro santo e abbiamo sentito che ci può essere un ritorno formidabile anche in termini turistici ci sono in piedi iniziative anche per cercare di organizzare dei voli di linea fissi almeno settimanali con Mosca ripristinando in alcuni periodi li abbiamo avuti ma dovremmo cercare di averli sempre appunto settimanalmente almeno è un'iniziativa che il governo ha voluto sposare è importante i francobolli forse sono un po' anacronistici ma questo è un francobollo celebrativo e serve per sottolineare l'importanza che il nostro santo ha per la nostra città e non solo per la nostra città bene ci fermiamo breve pausa pubblicitaria restate con noi tra poco torniamo con altre notizie eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale ripartiamo dalla sanità dopo 12 anni di attesa al Polichinico di Bari è stata inaugurata oggi la medicina nucleare e la radioterapia presente all'inaugurazione anche il governatore della Puglia Michele Emiliano guardiamo com'è andata quasi 12 anni dall'approvazione del progetto definitivo un quadro economico lievitato col passare del tempo mentre nel frattempo i pazienti continuavano ad entrare in un tir per essere sottoposti a una PET il Policlinico di Bari inaugura la nuova medicina nucleare e radioterapia una delle sezioni più importanti del nuovo complesso chirurgico dell'emergenza meglio noto come Asclepius 2 probabilmente tra i centri più grandi d'Europa in questa disciplina la cui realizzazione però è stata una vera e propria odissea dal dicembre 2005 data di approvazione del progetto da oltre 16 milioni già nel 2009 fu necessaria una rideterminazione del quadro economico per la sostituzione del ciclotrone con un altro acceleratore l'effettivo inizio dei lavori però avveniva il 28 gennaio del 2008 nel 2013 veniva approvato un progetto per opere complementari da 4 milioni 600 mila euro con una perizia di variante da oltre 700 mila euro nel febbraio 2005 vengono ultimati finalmente i lavori cui segue un aggiornamento delle attrezzature indispensabile che assieme al data center aggiunge oltre 2 milioni all'importo complessivo altri contrattempi portano ad oggi data di inaugurazione di Asclepius 2 e posa della prima pietra di Asclepius 3 nuovo complesso che si aggiungerà a quello già presente sperando che questa volta si rispettino i tre anni previsti per i lavori per 7 anni i lavori sono stati fermi dal 2006 sono ripresi si è previsto di raddoppiare le attrezzature e poi i tempi sono diventati coerretti dopo la prima fase di blocco ho sempre ritenuto pur non essendo uno specialista della sanità di mantenere la delega della sanità per consentire ai direttori generali di lavorare in piena libertà senza rotture di scatole non avere rotture di scatole spesso accelera anche i lavori pubblici avanti con la pagina politica il senatore Massimo Cassano annuncia le proprie dimissioni del governo e torna alle origini domani mattina l'annuncio del suo rientro nel partito di Silvio Berlusconi intanto Palazzo di Città e caccia il terzo consigliere per riportare Forza Italia in aula Dalfino sentiamo il senatore Massimo Cassano annuncia le proprie dimissioni a far data da oggi dall'incarico di sottosegretario al lavoro del governo la notte è diffusa alle testate giornalistiche nel primo pomeriggio in contemporanea da Forza Italia la convocazione di una conferenza stampa prevista per domani mattina all'Hotel Palace in cui si annunciano importanti ingressi nel partito che saranno presentati dal coordinatore regionale Luigi Vitali il collegamento agevole dalle fila del partito del CAV già confermano Massimo Cassano torna alle origini unica incognita al momento l'ingresso direttamente nel partito o il transito in Italia Civica la nuova formazione di centrodestra alleata di Forza Italia la notizia del cambio di casacca di cui si vocifera già da mesi ma puntualmente smentita almeno fino ad oggi non coglie però impreparato il presidente di Alternativa Popolare Angelino Alfano che nomina il consigliere regionale Gian Nicola De Leonardis coordinatore di AP Puglia ma la nota del partito di Silvio Berlusconi parla al plurale importanti ingressi dal coordinamento regionale sfuggono i nomi dei consiglieri regionali Gianni Stea Luigi Morgante ma per quest'ultimo il dubbio è lecito la smentita arriva infatti direttamente nella nota di Alternativa Popolare cambiamenti in vista anche in consiglio comunale automatico il passaggio dei consiglieri legati al senatore Cassano Michele Piccaro e Romeo Ranieri nella lista dei papabili poi Giuseppe Carrieri attualmente impegno civile e Fabio Romito gruppo misto ma entrambi smentiscono e dichiarano domattina non saremo presenti alla conferenza stampa ma la caccia al terzo nome aperta con il passaggio infatti di un terzo consigliere forse Italia tornerebbe ad occupare i banchi dell'Aula Dalfino e passiamo allo stadio San Nicola il mistero si infittisce il caso di dire all'appello mancherebbe il verbale di consegna dell'impianto sportivo essenziale per verificare i lavori di manutenzione dichiarati dall'Efici Bari 1908 intanto è stata fissata questa mattina la monotematica sull'astronave di Renzo Piano se ne parlerà in Aula Dalfino il prossimo 2 agosto semplice non esiste un verbale di consegna tra il Comune di Bari e l'Associazione Sportiva Bari sia sotto la gestione Paparest che è sotto la gestione Giancaspro quindi non essendoci questo atto che avviene diciamo anche nei contratti di locazione semplici non si sa come è stato consegnato il bene immobile è tutto da verificare e questo è solo il primo dei tanti punti discussi in Commissione Trasparenza in cui sono stati convocati l'assessore di competenza Pietro Petruzzelli e la dirigente della ripartizione Cultura e Sport che si sbilancia quando si inizia a parlare di contenzioso ovvero dei famosi 2 milioni di euro che il presidente dell'AFC Bari 1908 Cosmo Giancaspro avrebbe richiesto al comune come rimborso per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati in questi anni ecco la dirigente in Commissione Trasparenza ha riportato ha detto che al momento sono state millantate queste richieste sulla stampa e tra il millantare e le dichiarazioni ufficiali c'è di mezzo non esiste un contenzioso Pietro Petruzzelli smorza i toni tanto da paragonare il rapporto tra comune e società a una lunga storia d'amore quei lavori dichiarati vanno congruiti prima di poter come dire affermare con esattezza qual è l'amore dei lavori realizzati ma è tutt'altro rispetto a un contenzioso non è una cosa diciamo che ad oggi c'è verranno fatte delle verifiche in questo senso per quanto riguarda i lavori che la società dice di aver fatto ma questa è una cosa su cui l'IVOP la ripartizione dove vi sono le competenze tecniche naturalmente effettuerà una valutazione sulla congruità dei lavori ma il rapporto con la società è un rapporto diciamo armonioso poi avete in passato a volte si litiga come due fidanzati prima che scoppi l'amore ma questo ci sta e parliamo della riqualificazione di via Sparano sopra il luogo questa mattina del sindaco Antonio De Caro insieme all'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso sul primo tratto quello compreso tra Corso Vittorio Emanuele e via Piccini per verificare l'andamento delle operazioni di lucidatura del salotto Portavecchia dove è stata riprodotta la pianta della città vecchia al termine dei lavori sull'isolato nei primi giorni della prossima settimana saranno rimosse tutte le recinzioni e verrà installato un totem che guiderà i cittadini nel percorso di riconoscimento degli edifici più importanti del centro storico intanto questo pomeriggio sono giunte in deposito le nuove panchine da montare sull'isolato della moda le vedete adesso in questo momento su cui la settimana prossima saranno installati anche nuovi pali della pubblica illuminazione il prossimo isolato a essere interessato dai lavori sarà il tratto su cui sorge la chiesa di San Ferdinando dedicato al culto domani la Mio Puglia avvierà le attività di pulizia straordinaria e lavaggio degli isolati già riqualificati e consegnati all'amministrazione comunale i cittadini di Carbonara protestano in via Isonzo per l'installazione di una nuova antenna chiedono chiarezza all'amministrazione comunale sentiamo una struttura bianca simile a un comignolo uno striscione appeso a un balcone l'avidità avvelena i vostri figli i cittadini di Carbonara alzano la voce e vogliono verità sull'inalzamento sullo stabile di un privato di una nuova antenna nascosta da una copertura in metallo inalzata nel giro di poche ore lo scorso luglio più di 100 persone si sono radunate per raccogliere le voci del quartiere e rivolgere i propri dubbi all'amministrazione comunale che segue l'iter autorizzativo per l'installazione di questi impianti e se alcuni hanno scelto la satira web per commentare la nuova installazione c'è chi preoccupato ha già scelto di abbandonare il proprio appartamento io mi sono vista costretta ad allontanare mia figlia in premessa ci siamo allarmati perché prima di tutto è un'antenna camuffata che è stata costruita alle prime ore dell'alba di martedì 4 luglio e non abbiamo ricevuto nessun tipo di spiegazione né dagli operai che hanno montato hanno eretto questa antenna né tanto meno dalle persone che hanno voluto costruirle ovviamente scuole asili io personalmente che abito qua che mi sono sposata penso domani di allargare la famiglia ma è proprio diventata un'inconvenza dal comune di Bari fanno sapere che sono in corso delle verifiche per capire se ciò che è stato realizzato sia conforme a quanto dichiarato in attesa che si faccia chiarezza sulla distribuzione sul territorio di questi impianti tutto pronto per il Red Bull Cliff Diving la manifestazione di tuffili da grande altezza che si terrà il prossimo weekend a Polignano a mare questa mattina gli atleti in gara erano allo stadio del nuoto per prepararsi alla competizione e noi ce l'avamo campioni provenienti da ogni angolo del mondo pronti a tuffarsi dalla scogliera di Polignano a mare davanti a migliaia di spettatori torna in Puglia il 22 e il 23 luglio l'ormai consueto appuntamento con il Red Bull Cliff Diving il campionato mondiale di tuffi da grandi altezze a Polignano per la quinta volta unica tappa italiana andrà in scena il terzo atto della stagione 2017 atleti e atlete si tufferanno da una terrazza privata dove saranno allestite due piattaforme posizionate a 27 e 21 metri d'altezza questa mattina i tuffatori sono stati ospiti dello stadio del nuoto di Bari dove hanno potuto allenarsi per affrontare la sfida con il massimo impegno ogni anno ogni volta che vengo da Polignano li porto qui alla piscina comunale proprio per dare loro la possibilità di riscaldarsi quindi di stare bene fra di loro si chiacchiera un po' di più eccetera quindi diventa un'arena molto ideale per riscaldarsi tra i protagonisti della manifestazione il cosentino Alessandro De Rose e 25enne atleta della Trieste Tuffi unico italiano in gara con il compito di tenere alta la bandiera della nostra nazionale la location è strepitosa giocare in casa di solito rende più forti qualsiasi giocatore l'obiettivo non mi voglio sbilanciare troppo diciamo entrare in finale non ti arrendere questo è il tema del congresso di zona di quest'anno organizzato dai testimoni di Geova in programma a Bari oggi prima giornata di lavori alla Palaflorio di Gliapigia il convegno durerà fino a domenica attesa la presenza di circa 6.000 delegati nelle 52 parti in programma saranno spiegate quali validi ragioni ci sono per non perdere la speranza in un mondo sempre più scoraggiante e deludente spiegano gli organizzatori in una nota molte persone sincere possono trovare difficile perseverare date le tante difficoltà che l'attuale sistema di cose prevede il programma è molto vario ed è consultabile sul sito internet dei testimoni di Geova l'ingresso è gratuito e non si faranno collette bene siamo in chiusura vi lascio al meteo ma non perdete l'appuntamento tra pochissimo con un'edizione speciale del TV Sport condotta da responsabili dei servizi sportivi di Telebari Enzo Tamborra tutte le ultime novità in diretta da Bedollo dove ci sono Cristian Siciliani e Salvatore Agostella ovviamente parliamo della squadra bianco-rossa grazie per averci seguito appuntamento più tardi un bel ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale con Trebimeteo.com una giornata di sabato che sarà ancora in prevalenza stabile su tutta l'Italia i Balcani la Grecia ma anche la Spagna in compagnia dell'anticiclone africano gran caldo che si farà sentire al centro-sud qualche temporale invece investirà a Svizzera Austria ed Alcolpino ecco qui più nel dettaglio la situazione per quanto riguarda le precipitazioni sull'Italia una giornata nel complesso Buona con clima asciutto nel pomeriggio i classici temporali su Alpi e Prealpi e vicine pianure del Piemonte andiamo a vedere quindi la nuvolosità un pochino di variabilità come sempre a ridosso dell'arco alpino altrove invece ampio soleggiamento soprattutto sulle spiagge del centro-sud infine la mappa dell'Italia ci conferma una giornata di sabato buona da nord a sud qualche temporale in montagna sulle regioni settentrionali ma guardate il gran caldo che interesserà tutto il nord-est così come regioni centro-meridionali con questo film è tutto aggiornamenti su caldo e temperature scaricando l'app di trebimetro.com di trebimetro.com Grazie a tutti.